Lo ci siamo detti io e te, fino all'inizio. Fino alla fine? Fino alla fine, ma è mollare. Ci sono dei leccaturo. Uno sicuramente è Gabriele. E un altro è Andrea. Il nome del secondo finalista per la casa è... Andrea Damante! Grazie, raga! Incredibile, bravo! Per andare al televoto... Devi scegliere uno sfidante. Siccome è una scelta che lascia il tempo che trova col mister... Perché mister è per una questione di... Cioè, non saprei. Ma di cosa stiamo parlando? Ma se una persona la vedo vicina a me nei modi di essere e di fare, non ti nomino. Penso che lui capisca. Io francamente non l'ho capito, ma va bene uguale. Ma hai capito il perché? Il francamento, e faccio fatica a capirlo. Perché non me la sento di fare altri nomi. Ma scusa, fino alla fine, fino alla fine cosa vuol dire? Fino alla fine metterselo nel c***o. Non me ne frega del gioco, Andre. Perché tu pensi... Me ne frega della persona. Cosa ci siamo detti? Fino alla fine. Ok, basta. Basta, Andre. Ti ha dato fastidio e ti ho dato del leccaculo? Vai lì davanti e dici Ok, io voglio andare al televoto con Stefano. Perché non mi è piaciuto. Lo avrei apprezzato di più come uomo. Stefano! Oh, yeah!